Alfonso Scopella è pronto per la seconda gara che a Cesio Maggiore nel pomeriggio impegna le donne junior alle donne elite che gareggeranno in promiscuità. Non c'è misurazione rapporti per le junior, la verifica la fanno solo quando gareggiano da sole. Si corre per il trofeo Città di Cesio Maggiore, Gran Premio Sportful, UOM, rappresenta la contitolare dell'azienda abbigliamento sportivo Gioia Cremonese, andando anche alla conquista della Coppa Baro 88 dello sportivo e appassionato Paolo Cassol. Stesso circuito dove sono stati i protagonisti al mattino i corridori juniores. Medesimo tracciato ma con una riduzione delle tornate. Si correrà infatti sulla distanza di sei giri per complessivi 81 chilometri e 600 metri. E mentre muovono le concorrenti andiamo a sentire il presidente dell'Unione Ciclistica Fuen Michun e vale a dire Alex Turin. Dopo questo splendido campionato Veneto a Fuen e questa intensa giornata di sport qui a Cesio Maggiore. Si davvero dopo il campionato Veneto non potevamo che concludere così l'avventura dell'anno no? La fine organizziamo cinque gare l'anno. Questa è l'ultima del nostro panorama insomma del nostro calendario di organizzazioni e quindi ecco cerchiamo di finire al meglio. Questa mattina è stata una giornata al 32esimo giro della Valtafeltrina credo bellissimo, molto selettiva come gara. Mi aspetto la stessa cosa anche questo pomeriggio dalle donne. È un orgoglio per noi organizzare la categoria Juniors e la categoria Norden Open perché davvero con queste due gare andiamo a prendere tutto il palcoscenico del nostro panorama a cui noi come Ucifoen possiamo arrivare. Sono molto contento di riproporre a Cesio queste due manifestazioni. Ringrazio nuovamente l'amministrazione di Cesio e il comitato della patata di Cesio Maggiore perché veramente ci ha un contributo sia come amministrazione sia come logistica e ristorazione per gli atleti enorme. Quindi ecco non è solo Ucifoen ma è un'intera comunità che si muove per organizzare queste due manifestazioni. Il mio ringraziamento è a tutti i volontari perché non è facile organizzare queste manifestazioni e ogni anno ci riusciamo nel migliore dei modi. Quindi ecco il meteo è ottimo, quasi troppo caldo anche questo pomeriggio però insomma siamo a Feltre, rinfreschierà presto. Due parole su questa unione ciclistica Fuen. Alfonso vuole sempre mollare però ho visto che ha inserito ragazzi giovani quindi per il Fuen ci sarà sicuramente ancora futuro. Sì, Alfonso mi ha lasciato la presidenza in questa mia prima annata ecco da presidente Ucifoen e comunque lui resta sempre nel consiglio e sempre in prima linea nell'organizzazione delle gare. Senza lui saremo ancora in alto mare ecco quindi il mio ringraziamento va sempre a lui e l'anima dell'Ucifoen lo resterà ancora per tanti anni. Anche se abbiamo dato la presidenza non è uscito e è sempre parte di noi. Quindi ecco un grosso grazie a lui, un grosso grazie al vicepresidente Gianni Cecchin che veramente abbiamo messo in piedi un bel siparietto anche oggi quindi sono contento. 92 le ragazze in corsa, una gara che si accende subito con la verve di Gaia Realini che strappa via forte già nei primissimi chilometri. La pescarese è poi raggiunta da altri quattro atleti e si forma quindi al comando un quintetto che pedala con buone intenzioni acquisendo velocemente 40 secondi di vantaggio. A viaggiare in testa al Gran Premio Sportful Women troviamo oltre a Gaia Realini la compagnia di squadra alla Isola Manta Premac Vittoria Beatrice Rossato. Poi una coppia anche per la Top Guerra Passaportolo con Alessia Vigilia ed Iris Monticolo. Con loro in testa si aggancia pure Monica Castagna del team Villier Chiara Perobon. Un'azione con cinque ragazze dalle buone credenziali. Realini infatti nel 2022 ha già vinto una tappa e la classifica finale del settimo giro della campagna in rosa mentre Beatrice Rossato venti giorni fa si è imposta nel primo circuito rosa dell'Assunta a Vittorio Veneto. Due vittorie anche per Alessia Vigilia nel 47esimo Gran Premio Città di Monselice e nel trofeo pre-Alping Rosa a Tarzo. La Vigilia ha pure partecipato al campionato europeo a cronometro. Monica Castagna ha centrato il successo proprio il giorno prima di Cesio Maggiore nel primo giro della lunigiana femminile. L'unica ancora a digiuno di vittoria in questo quintetto è di Iris Monticolo. Quando la strada sale Gaia Rallini è sempre in palla, accelera, aumenta, va a prendersi traguardi a premio e poi saggiamente si fa riprendere per proseguire questa fuga quando mancano ancora parecchi chilanti alla conclusione. Dietro intanto il gruppo continua a perdere terreno oltre il minuto abbondante in ritardo del plotone dal quale escono e vanno a ding seguire Emma Radaelli della Valkar Travel e Service e un'altra Top Gear passavortolo e vale a dire Cristina Tonetti. Molte intanto le defiezioni nel plotone. Il tracciato di questa corsa non è certo di più semplice. La salita verso l'arrivo miette vittime ad ogni tornata. Chi poi rientra si trova ad affrontare una discesa dove prima bisogna comunque pedalare e poi quando si entra nel tecnico serve tanta lucidità quindi con un po' di stanchezza che ti attanalia non è facile recuperare prima che la salita cominci nuovamente. E quando la strada torna a salire Emma Radaelli e Cristina Tonetti completano con successo il loro inseguimento. Sette ore a comandare il Gran Premio Sport Full Women. Coppa Bar 88, trofeo Città di Cesio Maggiore. Ricordiamo i loro nomi. Tre atleti per la Top Gear Falsavortolo. Cristina Tonetti, Alessia Vigilia ed Iris Monticolo. Due per la Isolmant Premac Vittoria. Gaia Realini e Beatrice Rossato. E a completare il Settebello Monica Castagna del Team Villier Chiara Pierobon ed Emma Radaelli della Valkar Travel e Service. Continua intanto a perdere terreno il gruppo. Oltre due minuti il ritardo per una cinquantina di atleti che sono ancora in gara. Praticamente si può dare per scontato che la fuga delle Sette vada a buon fine. Rimane ancora aperta la lotta per il successo tra le Junior. Delle 41 partite ne rimangono ancora in gara una quindicina. Tra queste Elisa De Valiere, Andrea Casagranda, Alessia Foligno, Romina Costantini e Sara Piffer, tanto per citarne alcune. Davanti sono tutte élite quindi sarà un bel finale per la conquista di un posto sul podio per le più giovani. Passaggio per la Festa della Corsa a due tornate dalla conclusione. 27 chilometri circa ancora di gara. Una gara che ha dato spettacolo e d'altronde su queste strade senza un metro di pianura quasi completamente prive di traffico in un contesto di verde e di natura tutto è davvero piacevole. Come squisita è stata l'ospitalità del Fuang Michu grazie anche al comitato Festa della Patata. Ma ritorniamo alle fasi finali del Gran Premio Sport Full Woman con le sette battistrada che non devono più temere nessuna reazione da parte del gruppo. Ora il controllo è tutto tra loro. In particolare tra le due formazioni che sono presenti davanti con più atleti e vale a dire la Top Girl e Passaportolo con tre e la Isola Monta Premaca Vittoria con due. Passaggio da pulire il punto più tecnico di tutto il circuito per andare poi in salita verso il suono della campana. Ed è proprio nel corso del penultimo giro che Gaia Realini porta in salita il suo attacco. La giovane pescarese nata il 19 giugno del 2001 quindi 21 anni da poco compiuti è la più forte quando la strada sale e quindi gioca sul suo terreno le sue carte forse anche per saggiare la consistenza delle sue avversarie. Dopo il passaggio sul traguardo ancora un breve strappo fino in centro a Cesio Maggiore e poi per la Realini la fase più delicata dove il suo peso piuma non la favorisce quando la strada corre in discesa. 3 minuti e 30 intanto il ritardo del plotone dove come già detto c'è ancora grande interesse per la vittoria tra le junior. Ultimo giro dunque alla termine di una giornata davvero ben orchestrata dal neopresidente Alex Turin sotto la sorveglianza non dimentichiamolo del saggio Alfonso Scoppel e della moglie Giovanna Scalco pilastri fondamentali per la buona riuscita della manifestazione. Intanto come era prevedibile la discesa consente ad Alessia Vigilia di riagganciare Gaia Realini e quindi sarà nuovamente il tratto finale di tre chilometri in continua assesa che porta su fino al traguardo che dovrà dare il definitivo risponso. Difficile prevedere un arrivo allo sprint visto i precedenti passaggi e conoscendo le qualità di Gaia Realini pur non disconoscendo il valore di Alessia Vigilia ma sinceramente più di un 30 per cento di possibilità non possiamo dare all'alto attesina. E arriva dunque il momento della verità adesso si decidono le sorti del gran femmio Sportful Woman Coppa Bar 88 Trofeo Città di Cesio Maggiore e come era prevedibile la rasoiata di Gaia Realini arriva puntuale cerca di reagire Alessia Vigilia ma si risiede subito e continua con il passo che può permettersi mentre Gaia Realini sempre in piedi sui pedali aumenta ancora la cadenza e va con merito verso il passaggio all'ultimo chilometro laddove poi la strada spiara un po' prima della conclusione. Imprendibile la portacolori della isola Mont Premac Vittoria ha attaccato subito nei primi chilometri di corsa e si ripete nel finale staccando tutte le compagne di fuga. All'ultimo chilometro passa in seconda posizione Alessia Vigilia e poi anche Beatrice Rossato ma la sfortuna cade su Vigilia che per un salto di catena si vede passare dalla Rossato perdendo così un secondo posto oramai guadagnato. Tutto l'iscio invece per Gaia Realini che trionfa da protagonista sul traguardo di Cesio Maggiore conquistando il gran premio Sport Full Woman. Chiude in due ore 21 primi e 16 secondi alla media di 34,658. Completa poi il successo di squadra per la Isla Mont Premac Vittoria il secondo posto di Beatrice Rossato. Terzo posto invece per la sfortunata Alessia Vigilia con distacchi maggiori concludono nel quarto posto Cristina Tonetti, poi Ema Radaelli, Monica Castagna e Dirisse Monticolo. Con oltre 5 minuti di ritardo il gruppo è regolato da Bariani su Cristanello e Cipriani. Per ciò che riguarda la categoria delle junior vince la campionessa veneta Elisa De Valliere, consiglio pedale del sile su Alessia Foligno, poi Casagranda, Brillante, Miotto, Piffer, Costantini, Brugner, Raimondi e Trussardo. Delle 41 ragazze junior e salvia soltanto in 13 hanno portato a termine la corsa mentre tra le elite su 51 alla partenza 34 hanno concluso regolarmente. Lo sprint intanto del gruppo dove con l'undicesimo posto assoluto la campionessa veneta junior Elisa De Valliere coglie il suo secondo successo stagionale. La portacolori del consiglio pedale del sile nel 2022 ha collezionato ben 7 secondi posti. Elisa è sempre presente nelle gare dure e acceso maggiore si è confermata. Perinta, determinazione, un percorso che un po' nel finale ti diceva e la vittoria non è potuta sfuggirti. Sì diciamo che era un percorso abbastanza adatto alle mie caratteristiche non c'era un metro diciamo di pianura e abbiamo provato subito dal secondo giro e abbiamo portato via una fuga di 5 poi sono rientrate in 2 e siamo diventate in 7. Poi al penultimo giro ho provato il forcing da sotto dall'inizio della salita siamo andate in 2 e alla fine di nuovo all'ultimo giro ho provato l'attacco all'inizio della salita e l'ho portato a termine. I prossimi traguardi per Gaglia Realini sicuramente ambiziosi? Beh sicuramente finiremo la stagione spero nel migliore dei modi e poi un po' di recupero e si inizierà un nuovo capitolo. Ciclocross basta? Sì penso che per quest'anno Ciclocross lo metterò un po' da parte e mi dedicherò più sulla strada. Gioia Cremonese con titolare di Sportful e quando parliamo di sport in questo caso di ciclismo saliamo sugli scudi anche con la sua azienda. Noi nell'ambito del territorio abbiamo sempre da sempre cercato di dare una mano a tutte queste manifestazioni e lo facciamo veramente con grande gioia e poi vedere l'impegno che ci mettono appunto nell'organizzare questi questi eventi sinceramente riempie veramente il cuore. In questa occasione la manifestazione è dedicata alle donne nell'ambito del ciclismo. Stiamo in effetti notando che sempre più donne partecipano appunto e praticano questo sport, lo danno anche i dati di vendita e quindi bene, è bello che Lucifoen abbia appunto organizzato questa manifestazione. Cesio Maggiore è la città della bicicletta dove si può visitare un museo storico del velocipide in tutte le sue sfaccettature. Cesio Maggiore dicevamo ha accolto qualche centinaio di ciclisti che si sfideranno sia di buon mattino e poi anche nel pomeriggio. Ad aprire le competizioni sono i corridori Juniors con il campione del mondo del quartetto dell'inseguimento Renato Favro Borgomolino Vigna Fiorita. Juniors che gargeranno per il 32esimo giro ciclistico della Vallata Feltrina nonché per la medaglia d'oro Ernesto Tessaro e per il memoria Fabrizio Scopel. Con ritrovo presso gli impianti sportivi gentilmente ospitati dalla Proloco e dal comitato Festa della Patata con il solidale appoggio del comune di Cesio Maggiore guidato dal sindaco Carlo Zanella, 102 corridori Juniors hanno preso il via agli ordini di Alfonso Scopelli e di Vittorio Saccon. Una giornata di ciclismo con le donne poi al pomeriggio preparate al meglio come sempre dall'Unione Ciclistica Foen. Il sodalizio Feltrino dà sempre sulla scena del ciclismo regionale trainato dalla passione di Alfonso Scopelli e per tanti anni presidente di questa realtà bellunese che dal 2022 ha passato il testimone all'ex professionista Alex Turrini. Il circuito da affrontare per otto tornate per complessivi 108 chilometri e 800 metri misura 13 chilometri e 600 metri a giro e presenta un finale veramente interessante con gli ultimi tre chilometri praticamente tutti in salita. Solo a 500 metri del traguardo la strada lascia un po' di respiro per poi però salire ancora fino al centro di cesio maggiore. Anche il tratto in discesa presenta dei passaggi molto tecnici dove bisogna fare molta attenzione e quindi un circuito dove oltre alle gambe bisognava avere anche nervi molto saldi e massima concentrazione lungo tutto il percorso in particolare nel centro di pulire dove una doppia curva in discesa richiedeva tanta abilità di guida. La sfida si accende già dopo i primi chilometri con lunghi che mettono in difficoltà molti corridori che nelle retrovie si staccano. Dopo un paio di tornate per prendere bene le misure il primo vero tentativo è quello che viene portato da Johans Achim, portacolori dell'Unione ciclistica Giorgione, che va in compagnia di Damiano Obetti della Libertas di Scorsè. Lanciano la sfida a cinque tornate dal termine, cercano di dare un buon ritmo alla corsa, sanno che dietro tanti bei nomi del panorama junior se sono pronti a rintuzzare questo loro tentativo ma a volte il coraggio paga e loro ci provano guadagnando quasi un minuto. È decisamente una bella azione che si apre a molte soluzioni. Magari da soli sarà difficile riuscirci ma se del gruppo dovessero rientrare ancora altri corridori su un tracciato come quello di Cesaro Maggiore la partita potrebbe essere favorevole agli attaccanti. Quindi per Obetti ed Achim essere in avanza scoperta non è di certo una mossa azzardata. Anzi qui si fatica sia davanti che dietro quindi meglio anticipare che rimanere nelle retrovie. Unico punto a sfavore degli attaccanti il lungo tratto di discesa che favorisce di sicuro il plotone che scende con maggior penetrazione rispetto alla coppia alle comando. Il giro della valata Feltrina metteva in palio anche il trofeo gruppo DBS Tipografia e di Le Montepremi complessivo che gli organizzatori avevano messo a disposizione di concorrenti era davvero interessante. Quindi bel tracciato, ottima organizzazione e sostanzioso insieme di gratificazioni per i migliori sul traguardo di Cesio Maggiore. Continua intanto l'azione di Damiano Obetti e di Johan Achim e non è che dietro il gruppo tiri tanto i remi in barca. Anzi il plotone è solicitato da tanti scatti e la sua conformazione nell'esempio di quanto si vada forte anche dietro. Superata la boa di metà corsa si entra pian piano nella fase più delicata di questo prestigioso appuntamento bellunese e più precisamente in terra del Feltrino in un contesto paesaggistico davvero stupendo grazie anche alla bella e soleggiata giornata che abbiamo incontrato. Sempre Obetti ed Achim a guidare le operazioni oramai da parecchi chilometri. Entrambi junior al secondo anno mentre dietro nel tratto in salita si è portata davanti la formazione trentina della campana imbalaggi Geo e Tex che scandisce il ritmo per non lasciare troppo spazio ai due attaccanti. Cala il vantaggio dei battistrada. Lo avevamo detto che in due sarebbe stato difficile avere buon gioco. Troppo forte la concorrenza alle spalle. Tanti uomini che devono ancora proporsi giocando le proprie carte e che aspettano il finale per produrre il massimo sforzo. Una corsa questa con un finale che da solo può ribaltare completamente la situazione. Davanti si percepisce che la rincorsa degli seguitori sta dando esito positivo. Si sente che il passo del gruppo è decisamente superiore alla cadenza che si esprime davanti e da allora Damiano Obetti tenta con un lungo di rilanciare l'azione e a farne le spese. È Achim che non regge la sollecitazione del corridore della Libertas di Scorsè che in solitudine continua ancora per qualche chilometro. Poi anche per Obetti la resa diventa scelta quasi obbligata sotto l'incalzare di un gruppo sempre meno numeroso ridottesi a poco più di 40 concorrenti ancora in corsa. Rientrato nei ranghi anche Damiano Obetti si apre una nuova fase con affondi che cercano decisamente il bottino pieno e che guardano al traguardo del 32esimo giro della vallata a Feltrina. Memori all'Ernesto Tessaro, Fabrizio Scopelle, trofeo DBS con maggior possibilità di riuscita ed infatti a prendere in mano le redini della situazione arrivano davanti Omar Adalè Cappello, autozai Petrucci Contri, con lui la coppia della Borgomolino Vigna Fiorita e vale a dire Renato Favaro e Matteo Rapporti e completa il quartetto Leonardo Vardanega dell'Unione Ciclistica Giorgione. Questa è un'azione che può impensierire. Sono rappresentate tre formazioni di spicco che possono contare su dei compagni di squadra alle loro spalle, quindi se si vuole chiudere bisogna reagire immediatamente senza tergivisare. Siamo ormai negli ultimi chilometri e distrarsi adesso significa cercare gli attaccanti dopo il traguardo, magari solo per complimentarsi. Ma gli spazi tra fugitivi dei seguitori sono sempre molto ristretti, non si va mai oltre i 20 secondi di vantaggio. Come dire che ancora nessuno ha rinunciato a questo traguardo e tutto può ancora succedere. Finale infuocato dunque con molte incertezze ancora da sciogliere e con nessuna sentenza ancora decretata. Si fa dura per Dalcappello, Favaro, Rapporti e Vardanega che hanno sempre il gruppo quasi praticamente alle calcagna. Un plotone che non molla, che non vuole alzare bandiera bianca, che continua nel tenere sempre aperta questa bella partita che si gioca ai piedi delle Dolomiti bellunesi. Scenari incantevoli, paicosenici, naturali per una grande rappresentazione come il legiro della vallata a Peltrina. Ripresi Dalcappello, Favaro, Rapporti e Vardanega, schizza via in piena bagarre un altro quartetto. Ancora Omar Dalcappello e Matteo Rapporti i protagonisti. Con loro questa volta a salire sul treno sono Alan Flocco della Cotardo Giochi Audi e Kichen e Michele Pin della società ciclistica Fontana Fredda. Escono quasi di rimbalzo e cominciano a girare con una rapida frequenza alternandosi bene il comando e creando in poche battute il vuoto alle proprie spalle. Vanno verso il passaggio sul traguardo dove vedranno esposto il contagiri dell'ultima tornata. Suono della campana quindi per questa azione che sembra avere tante possibilità di riuscita anche perché dietro la compagnia si sta sfaldando e non sembra in grado di organizzare un inseguimento tanto efficiente da consentire un recupero sui quattro battistrada. Ancora 13 chilometri e 600 metri, gli ultimi tre in salita probabilmente dove chi avrà più energie cercherà di fare la differenza. Pochi metri di vantaggio possono essere anche sufficienti per centrare l'obiettivo. Al limite dei 100 chilometri e con una gara tirata il pronostico ora si fa difficile. Rapporti dal cappello hanno dimostrato di essere in condizioni ripartendo nuovamente dopo essere stati ripresi. Flacco e Ping bravi a non farsi sorprendere e quindi vanno in quattro verso la conclusione della prova mattutina qui a Cesio Maggiore dove poi nel pomeriggio gargeranno le donne elite e le donne juniors. Come era prevedibile non succede niente fin tanto che non inizia il tratto in salita che conduce all'arrivo. Poi quando la strada comincia a salire Omar dal cappello detta subito un ritmo che gli altri stentano a tenere. Ci prova inizialmente Matteo Rapporti che sembra anche poter recuperare. Poi però il portacolori dell'autozai Petrucci Contri alza ancora la cadenza e mette tutti in difficoltà. Si sfalda il quartetto mentre dal cappello dopo tre secondi posti, due terzi e un quarto posto in questa stagione sente finalmente odor di successo. Quella vittoria che manca dal 18 luglio dell'anno scorso quando trionfò nel durissimo impegno di Colle San Martino nel 62esimo junior Pivadei. Ultimo chilometro per dal cappello e anche per flocco e rapporti che transitano con 15 secondi di ritardo è fatta per Omar dal cappello autozai Petrucci Contri che in solitudine va a conquistare il 32esimo giro della Vallata Feltrina alla termine di 108 chilometri e 600 metri corsi in due ore 50 primi e 46 secondi alla media di 38 238. Alle spalle del Veronese con un ritardo di 16 secondi termina Alan Flocco davanti a Matteo Rapporti che termina così al terzo posto. A 27 secondi Michele Ping completa la sua prova con un buon quarto posto. Arriva poi Nicola Vettorata che conquista la maglia di campione provinciale per Belluno e a seguire Favro, Faggianato, Ruffin, Ruscito e Viecelli al decimo posto. Sì oggi volevo assolutamente vincere, sono già fatto tre piastamenti come secondo posto e anche un terzo posto quindi volevo vincere e oggi quando ho visto che ero in fuga davanti con gli altri ho detto oggi non mi può scappare la vittoria e per fortuna sono riuscito a vincere. Un giudizio su questo circuito? Il circuito è molto impegnativo, anche l'anno scorso ho fatto questa gara qua, sono arrivato quarto e sapevo che era dato alle mie caratteristiche perché sono un uomo di resistenza quindi ho detto oggi mi gioco tutto, è perfetto per me e per fortuna sono riuscito a vincere. Ti soddisfa questa maglia? Sì assolutamente anche perché è la prima volta che prendo una maglia insomma anche se è quella provinciale comunque è sempre una cosa molto importante. Come sta andando la tua stagione? Ma abbastanza bene, sull'ultima parte adesso sono riuscito a ottenere anche qualche risultato e ho fatto quinto anche domenica quindi insomma sono soddisfatto. Metà giornata se ne è andata, soddisfatto Alfonso? Sì direi veramente di sì anche perché tutto è andato bene, la gara è stata selettiva al massimo e ha vinto da quello che si sente un corridore di grosso spessore. I corridori che sono arrivati sono pochi ma significa che la gara era valida. Il tuo circuito quello che proponi è davvero impegnativo? Sì 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 guarda io credo che il circuito sia un circuito per veri corridori, per chi vuole anche un po' soffrire non per chi così va a rimorchio insomma. Non tanto per la salita ma però quel lungo tratto in discesa con tanti tornanti e con tante strettoie mette un po' tutti a dura prova. Sì certamente noi pensiamo che i percorsi non possono essere né tutti in salita né tutti in discesa ma ci sono anche dei facciopiani della parte tecnica dove i corridori devono saper guidare bene la bicicletta e anche sapersi portare avanti. Nessun dorma Nessun dorma